Dopo il Castello Svevo, anche il Museo dei Bretti e degli Enotri rinasce a vita nuova. Dopo sei anni dalla sua inaugurazione, è stato riconosciuto dalla Regione Calabria come ente nella rete delle eccellenze dei beni culturali regionali. È da questo riconoscimento che è scaturita la procedura di evidenza pubblica attraverso la quale l'ente regionale ha poi selezionato i progetti di valorizzazione presentati da soggetti privati. Per il Museo Cosentino ha sviluppato la sua idea la società Museion, in collaborazione con Omniarch di Lamezia e la spin-off dell'Unical. I nuovi servizi che saranno realizzati tra novembre e dicembre si svilupperanno su tre dimensioni. Miglioramento della fruibilità culturale, potenziamento dei servizi di accoglienza, creazione di una biblioteca del gusto. Sebbene il Museo abbia sviluppato una serie di iniziative e di attività nel corso di questi anni da quando è aperto, comunque abbiamo bisogno dell'apporto dei privati per poter migliorare quantitativamente e qualitativamente la nostra offerta. La sinergia tra amministrazioni pubbliche e privato ha consentito alle strutture culturali di aprirsi alla città e ai cittadini, offrendo maggiori servizi e favorendo un incremento del turismo. L'amministrazione Occhiuto fin dal suo insediamento ha sempre dato molta rilevanza non solo alle attività culturali ma anche molta importanza alle strutture culturali della città, non solo restituendole alla città come il caso del Castello, ma anche e soprattutto aumentando i servizi.